Misser, una bella vittoria oggi, una bella prestazione, anche se la partita era stata difficile, soprattutto nel primo tempo in cui non era stato facile per voi creare le occasioni, poi siete stati bravi a sfruttarle nel secondo tempo. Sì, al di là di quelle che sono state le occasioni create, penso che la partita è stata sempre in controllo. Incontravamo una squadra ostica, l'avevo vista contro il Castelnuovo e mi aveva fatto un'ottima impressione. Li abbiamo rispettati, secondo me abbiamo fatto la partita giusta sotto il profilo dell'atteggiamento, del gioco e siamo stati esperti ad aspettare il momento giusto per poi fargli male. È normale che sull'1-0 poi la partita è cambiata, potevamo fare tanti più gol, però questo è un aspetto nostro che dobbiamo migliorare. Innanzitutto non sono soddisfatto della direzione albinaria e questa volta mi voglio lamentare, ma non solo di questa, anche delle giornate antecedenti. Adesso il primo gol loro lo voglio proprio rivedere e ci vado con curiosità. Poi per quanto ha detto lei sulla gestione della partita, noi siamo partiti male i primi dieci minuti, poi ci siamo assestati, abbiamo fatto un cambio tattico e la squadra andava molto bene. Inizio del secondo tempo abbiamo avuto l'occasionissima per andare in vantaggio, purtroppo noi siamo recarcitranti davanti alla porta, abbiamo paura della porta. Poi loro ci hanno fatto un gol in ripartenza, clamorosamente che noi dovevamo magari essere la squadra che doveva... Abbiamo commesso un errore, purtroppo ci sta. Potevamo pareggiare con un'occasionissima ancora e non ci siamo riusciti. Naturalmente in dieci è diventato tutto più difficile, che è partita da una svista clamorosa sia del guardaline che dell'arbitro su un tocco del portiere che ha commesso un errore grave, che l'aveva quasi scavalcato, l'ha sfiorata. Naturalmente ci può stare, il fallo del capitano era giusto, però se tu me lo poi butti fuori, perché prima l'ha ammonito, devi buttare fuori anche tutti quelli della panchiera che sono entrati dentro e gli hanno messo le mani addosso.